Simboleggia una promessa d'amore tra due persone che si vogliono bene. Antonio Palladino, artigiano orafo, napoletano di origine aretino di adozione, è già famoso per i suoi animali diventati gioiello. Adesso l'idea che stravolge il mondo delle fedi nuziali, andando incontro ad una sempre maggiore voglia di diversificare una promessa d'amore e il suo simbolo. L'idea della fede col sì mi è venuto quando in un negozio un ragazzo ha comprato la fede, si è fatto fare le fedi, con un rubino sopra. Ecco l'idea che incarna la voglia di dire sì in ogni forma e luogo. Un sì è per sempre che lo si pronunci di fronte ad un parroco, ad un sindaco o a colui che la coppia sceglierà, in virtù di una legge che, oggi più che mai, porta il nostro paese ad essere più civile. Perché dal simbolo sì è quello che si dovrebbe dire per due persone che si amano. La fede declina il sì in tutte le lingue del mondo, unico diktat da parte del suo ideatore, i materiali con cui è stata concepita. In oro, in oro bianco, giallo e brillante.